foto sposi wow cosa significa previsto tra le mie immagini su internet su instagram parlare di foto sposi wow ma come prima cosa mi presento io sono giuseppe ierace fotografo pluripremiato e creatore del metodo foto sposi wow proprio di quello che di cui parleremo oggi ho all'attivo 800 matrimoni nella mia carriera di fotografo e svolgo questa professione da oltre 20 anni appunto siamo qui in questo video perché vorrei raccontarti spiegarti cosa significa foto sposi wow com'è nato in un mondo di fotografie tutte molto uguali simili tra loro da nord a sud dell'italia ho sempre visto poco carattere poca personalizzazione poca differenziazione nelle immagini di matrimonio e ci sono tante bellissime immagini ma spesso tra tutte un po simile ho deciso di metterci del mio di dare uno stile completamente diverso da qualsiasi altro fotografo che potete trovare proprio perché volevo creare qualcosa di mio di unico quindi cosa significa foto sposi wow foto sposi wow significa originalità creatività immagini come dicevo prima fuori dai soliti schemi della fotografia tradizionale anche perché io sono vent'anni che mi occupo di fotografia di matrimonio e ancor prima per imparare 25 anni che sono nella fotografia di matrimonio e quindi foto sposi wow è proprio questo l'innovazione e l'originalità lo stupire voi stupire i vostri invitati con immagini diverse dal solito creative ma sempre partendo da voi dalla vostra giornata come sarà bello per il vostro servizio fotografico accanto alle immagini di racconto emozionali della giornata inserire vedere delle immagini particolarmente creative e diverse dal solito che parlano di voi io penso che per voi possa essere un'emozione incredibile proprio perché ci si sposa una volta e bisogna strutturare creare qualcosa di unico particolare poi foto sposi wow cosa significa non vi dovete preoccupare del fattore della pioggia del vento del troppo sole del troppo caldo io con la mia tipologia di immagini molto molto creative sono in grado di scattarvi immagini veramente particolari diverse dal solito creative ma in qualsiasi punto in qualsiasi luogo anche in una stanza buia anzi spesso quando sono in location vado alla ricerca di una stanza buia per inserire tutti i miei giochi di luci di flash gli effetti di punti di vista quindi è anche una sicurezza per voi dire cavolo qualsiasi sia il tempo qualsiasi siano le situazioni abbiamo al nostro matrimonio un fotografo che qualsiasi cosa succede sia in grado di portare a casa oltre al racconto emozionale della giornata delle immagini diverse dal solito creative anzi tante volte quando poi sono capita delle situazioni un po particolari la pioggia eccetera ho tirato fuori delle immagini particolari diverse dal solito poi sono immagini che sono molto molto creative che quindi mi permettono di vincere awards come poi solo l'anno precedente ho vinto più di 30 awards in associazioni nazionali internazionali ma quindi sono queste immagini creative queste immagini diverse dal solito che che fanno la differenza quindi anche per voi è un orgoglio quando con le immagini del vostro matrimonio con voi i protagonisti vincerò dei premi degli awards per riassumere tutto foto sposi wow significa rompere con le solite regole della fotografia di matrimonio avere un occhio diverso vuol dire secondo me che se vi affidate un fotografo lo pagate deve darvi qualcosa di diverso qualcosa che non vi aspettate neanche voi nel senso che rimane dovete rimanere stupiti a bocca aperta se no veramente cosa serve affidarsi un fotografo di matrimonio se vi da delle foto standard già viste senza particolarità senza carattere fossi io non non mi affiderei un fotografo per avere delle foto già viste già viste senza senza carattere quindi io attraverso poi l'analisi della vostra giornata attraverso la vostra conoscenza sarò in grado di creare le vostre uniche foto sposi wow prima di chiudere questo video se siete alla ricerca del vostro fotografo di matrimonio vi consiglio di cliccare sul link che trovate qui sotto e prenotare la vostra consulenza conoscitiva con me l'unica cosa come dico spesso non non attendete molto perché io per mantenere questo livello per uscire a effettuare come dicevamo l'analisi della giornata creare le vostre foto sposi wow io effettuo solo un numero di matrimoni limitato e quindi ho anche piacere di avere sposi che hanno hanno la priorità della fotografia che hanno capito appieno il mio stile mi motivano sempre di più a creare qualcosa che vi possa stupire e per questo video è tutto vi ringrazio e a presto